Il Comune compra a casa dai privati. L'amministrazione che non ha voluto realizzare la sede dei servizi comunali nell'area di sua proprietà di 15.000 metri quadrati tra via 25 Aprile e via Rocco Carabba, pur avendo a disposizione ben 35 milioni di euro, ha invece intenzione di comprare dai privati 11.000 metri quadrati di direzionale sparsi tra uffici dell'ex Catasto di Villa Gioia, la sede di via 25 Aprile e l'immobile ex standa sul Corso Federico II. La denuncia arriva dal capogruppo di L'Aquila Nuova in Consiglio Comunale, Paolo Romano, che in una nota ha rimarcato come a questi si aggiungono altri 20.000 metri quadrati di capannoni prefabbricati in cemento armato con destinazione rimessa mezzi e officine ubicati tra la strada statale 80 ed il nucleo industriale di Bazzano. Hanno deciso, prosegue Romano, di permutare le abitazioni equivalenti proprietà del Comune con immobili direzionali scelti senza una minima pianificazione territoriale e dunque senza un'adeguata verifica degli standard urbanistici come i parcheggi e delle infrastrutture a servizio come la viabilità a supporto. I privati che cedono, al contrario, attacca Romano, avranno residenziale da poter subito immettere sul mercato con il serio rischio di drogarlo. La sede dei servizi comunali disegnata dalla precedente amministrazione avrebbe avuto 12.000 metri quadri di uffici, 7.500 metri quadrati di parcheggi multipiano su tre livelli e 4.500 metri quadrati di verde attrezzato. Al suo posto sarà realizzato un autoparco comunale evidentemente insufficiente, visto che vogliono acquistare altri capannoni per il rimessaggio dei mezzi. In questa confusione pianificatoria, dove sembra che l'unica regola vigente sia quella del caos, conclude Romano nella nota, Palazzo Margherita continua a non essere riconsegnato alla città. Dalla sua finta inaugurazione sotto campagna elettorale sono passati 11 mesi.